Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio mostrare questo pacchettino davvero speciale da parte di Alice in Babyland Adesso vi mostro cosa c'è all'interno Allora, partiamo da questo bellissimo portapannolini, portasalviette, che c'è il nome qui sotto, ricamato a mano La particolarità è che comunque ha questo bottoncino, quindi è facilissimo da poter aprire È in 100% cotone, qui sotto ha ricamato il nome del bambino e ho scelto questo verdino chiaro con le righe bianche Ed è davvero comodissimo E poi il pezzo forte è che ho scelto queste scarpine con Pikachu Sono davvero carinissime, piccoline, mamma mia, non vedo l'ora di metterle Queste sono praticamente decorate a mano, cioè veramente i colori perfetti Qui dietro c'è comunque il nome del bambino, che vi mostrerò più in là, con una sfera poca E quindi sono davvero carinissime Queste scarpine preferibilmente consigliate in lavaggio a mano, anche perché appunto sono state dipinte a mano Ma possono essere anche lavate in lavatrice, non superando comunque i 40 gradi come lavaggio E quindi questo ragazzi, allora io volevo ringraziare Alice in Babyland per questi fantastici prodotti Mi lascio qui sotto il link dove potete contattare la ragazza e poter farvi chiedere qualsiasi prodotto personalizzato Vi ringrazio ancora Alice in Babyland Grazie a tutti